Il programma della quinta edizione, costruito insieme con l'assessorato alla cultura della regione Abruzzo e con il comune di Pescara, assessorati alla cultura e al turismo, assume una valenza di attrattore al rilancio della parte finale della stagione turistica e quindi ci attendiamo una grande risposta di pubblico come nelle edizioni passate. Noi abbiamo nei quattro anni precedenti scandagliato Gabriele D'Annunzio, forse più per la sua dimensione politica, perché venivamo dall'anniversario di Fiume, quindi la fine della prima guerra mondiale, l'anniversario di Fiume, quindi tutto questo dibattito su quanto fosse fascista Gabriele D'Annunzio, facendolo uscire da questo equivoco e riportandolo nella sua connotazione naturale, cioè quello di uno dei più grandi intellettuali di inizio secolo, cioè quello che ha detto Boccelli in un famoso video, tra l'altro rilanciato da tutti i giornali nazionali, in cui suona la bucchella, che sono musiche di tosti e parole di Gabriele D'Annunzio. Avendo fatto questa azione per quattro anni di verità storica, riposizioniamo Gabriele D'Annunzio nel suo alveo naturale, cioè quello di un grande intellettuale, poeta, drammaturgo, scrittore, sceneggiatore, insomma tutto quello che lui ha realizzato nel corso del tempo.